Ben trovati, ben trovati in diretta su Telequattro, con noi c'è l'amico e collega Umberto Bosazzi, ben trovato Umberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo della stagione Alvia per il Teatro Stabile di Trieste, il Politeama Rossetti, stagione che si apre questa sera con la coscienza di Zeno, lo spettacolo con protagonista Alessandro Haber nel centenario della pubblicazione dello storico romanzo di Italo Svevo. Umberto, stasera la prima, c'è grande aspettativa intorno a questo spettacolo? Sì, c'è sempre aspettativa rispetto alle prime del Rossetti, in questo caso l'aspettativa è maggiore proprio perché lo spettacolo scelto per inaugurare la stagione è tratto appunto dalla coscienza di Zeno, è una nuova riduzione, cioè non quella ormai storica di Tullio Chesic che è stata portata tra l'altro sul palcoscenico del Rossetti parecchie volte, è una nuova riduzione che vede la firma anche del direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Haber è il protagonista, le immagini che stiamo vedendo si riferiscono alla presentazione dello spettacolo durante il quale sono state anticipati altri titoli di questa stagione. È indubbio che Trieste attende questa, chiamiamola a questo punto nuova versione della coscienza di Zeno con un notevole interesse, tra l'altro della coscienza di Zeno in quest'anno si è parlato parecchio per via del centenario, da quanto è stato anticipato la struttura dello spettacolo vede Zeno dialogare anche con se stesso, cioè se ho capito bene, perché poi dopo bisogna vedere anche poi, tu sai benissimo che quello che ti anticipano è un quarto poi di quello che si vede, quindi forse Zeno stesso prende il posto dello psicanalista a cui Zeno si rivolge. Ecco, poi bisognerà capire anche quanto ci metterà del suo Haber che è un attore vulcanico. Sì, Haber è un attore anche per certi aspetti, diciamo, non è corretto dire ingestibile, però insomma è un attore che personalizza molto e poi non si dice niente che non sia già stato pubblicato in questi giorni, esce anche da un periodo piuttosto difficile, ha avuto un problema alla schiena che lo ha costretto all'immobilità per un certo periodo, quindi sarà curioso vedere anche come tutto ciò si riverbererà sull'interpretazione e sul personale. Devo dire la verità che quando è stato annunciato già un annetto fa circa che sarebbe stato lui il protagonista della coscienza di Zeno, molto probabilmente nel panorama del teatro italiano forse a pensarci bene era il più adatto per questo l'attore giusto. Io ho un ricordo sulle vicende legate al romanzo che chiaramente poi ognuno lascia dei ricordi oppure anche delle testimonianze rispetto a percorsi di vita magari in qualche modo simili al protagonista, un ricordo di Antonello Venditti che a Trieste prima di un concerto parlò della famosa ultima sigaretta di Zeno perché si sentiva coinvolto e anche lui ha avuto tante ultime sigarette tipiche di un fumatore che vuole abbandonare il vizio. Sì, bisogna vedere anche quanto poi questo, quanto su questo che è un dato abbastanza come dire evidente del romanzo, quanto verrà conservato o se Valerio, o se Paolo Valerio deciderà poi di, deciderà per un approccio completamente diverso. Nella foto la sigaretta c'è, nella foto di Albert c'è. Ecco, cosa significa la prima della stagione per le maestranze, per il pubblico, per l'ambiente, insomma l'atmosfera, la serata? Ma intanto è come, adesso fatte le debite e proporzioni, è come l'inizio di un campionato insomma, ci sono delle indicazioni particolari eccetera, poi insomma senza togliere niente, insomma per la prosa a Trieste la prima del Rossetti è la prima che insomma ti consente di, ti consente anche di accorgerti se qualcuno c'è o se qualcuno non c'è e magari anche di preoccuparti se non trovi qualcuno. Ma insomma, vabbè, questo è, insomma è un momento, è un momento molto, molto, è l'inizio di una, è come l'inizio dell'anno scolastico, ti ritrovi, sai che per nove mesi hai questi parecchi appuntamenti e sì è un ritrovarsi, insomma, poi devo dire la verità anche quest'anno se ci pensiamo rispetto agli anni scorsi è lo stabile e anche le altre realtà del mondo dello spettacolo triestino hanno lavorato parecchio anche d'estate, quindi è come se non ci fosse soluzione di soluzione di continuità insomma. Sarà, sarà quello perché ci aspetta una, una stagione piuttosto, piuttosto impegnativa, ecco, quantomeno per il numero di alzate di sipario. Certo, ecco, spieghiamo anche come le seguirate le quattro, so che stasera sarai lì per il red carpet. Sera c'è il, chissà poi avranno, hanno pulito quello del, spero di sì, non so se ne hanno più di uno, comunque sì, noi seguiremo. A meno che non siano scaramantici, abbiamo portato fortuna, quindi potrebbe anche darsi. Quello è un mondo in cui la scaramanzia domina. No, noi la seguiremo, buono, questa sera praticamente subito dopo il telegiornale con le consuete interviste appunto all'ingresso del teatro e poi con l'appuntamento consueto con i Rossetti che segue proprio gli spettacoli ospiti e anche le altre produzioni. Fra l'altro il domani in Sala Bartoli debutta un'altra produzione del Rossetti che prosegue un percorso che lo stabile ha iniziato negli scorsi anni, assieme a Mauro Kovacic che ha già analizzato Joyce e Svevo, adesso torna ad occuparsi di Umberto Saba e sarà curioso vedere anche come Kovacic analizzerà quello che forse, diciamo così, fra i grandi della letteratura triestina del secolo scorso, rimane quello più, quello un pochettino più scontroso se vogliamo, non si affronta Saba con grande facilità se non si ha una passione per la poesia, anche se devo dire la verità, io ricordo il corso monografico che io frequentai all'università nel professor Guagnini dove l'attenzione era incentrata sul Saba prosatore, ci sono delle prose di Umberto Saba, lasciamo stare Ernesto, ma per esempio il ciclo degli ebrei che sono di una lucidità e di una bellezza incredibili. Umberto, per quanto riguarda le altre rotte da Rossetti, visto che siamo in tema di Barcolana, uso un termine velico, cosa ci sarà oltre allo spettacolo dedicato alla coscienza di Zeno, perché c'è sempre un grande interesse anche sugli altri percorsi, monologhi, musical che fanno sempre grande, diciamo hanno un grande riscontro anche di pubblico. Beh, quest'anno diciamo la verità, la proposta di musical è piuttosto notevole, devo dire non sarei onesto se non lo dicessi, però qui c'è lo scontro, mettiamola così, con il fantasma dell'opera, cioè chi ha visto il fantasma dell'opera, uno di quegli spettacoli che ti si conficcano nella mente e quindi tutto ciò che tu vedrai dopo diventa un termine di paragone. Gioco forse lo paragoni al fantasma dell'opera, quindi magari qualcuno potrà dire era più bello, perché potrebbe anche darsi, però rimane un punto fondamentale. Sono parecchi i musical della prossima stagione, sono parecchi i musical che vengono proposti in lingua italiana e qui potrebbe esserci però un problema, vedremo anche poi come vengono risolti. Per il resto compulsavo il programma completo in questi giorni, ci sono parecchi titoli che incuriosiscono, per esempio un curioso accidente che porta di nuovo a Trieste Gabriele Lavia, è un testo poco noto di Goldoni. Io sono curiosissimo di vedere come questo spettacolo verrà portato in scena, c'è la versione teatrale di Ginger e Fred di Federico Fellini con Monica Guerritore e con quel bravissimo attore triestino che è Francesco Godina. a me interessa particolarmente lo spettacolo con Umberto Orsini tratto dai fratelli Karamazov che si chiama Il Grande Inquisitore, se non mi sbaglio, che è curioso perché consente a Umberto Orsini, che credo abbia già compiuto 90 anni, di tornare a interpretare il personaggio di Dimitri Karamazov che fu un cavallo di battaglia della sua carriera televisiva quando imperavano gli sceneggiati. C'è parecchio, c'è tanta cosa e noi saremo penso parecchio impegnati a seguire la stagione. Bene, quindi ribadiamo, stasera Red Carpet, quindi 20 e 30 circa? No, 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 dopo il telegiornale, diciamo dopo la prima edizione, dalle 20 e 05 alle... Vabbè, torni a casa prima stasera, un po' prima. Relativamente, sì, non devi star qua. E poi dopo invece l'altro appuntamento è quello del giovedì, come prima messa in onda per l'appuntamento settimanale con il Rossetti e poi noi continueremo anche a occuparci di Contrada e quindi insomma... Certo, anche perché la stagione poi riguarda tutti i teatri triestini, la Contrada ha tanti appuntamenti, poi c'è il teatro in dialetto triestino, c'è ovviamente c'è il Verdi che insomma... C'è parecchio e giova ribadirlo ulteriormente, significa che la gente dopo la pandemia vuole tornare a stare assieme, questo l'abbiamo già detto parecchie volte, però significa che trova nel teatro, non dimentichiamo il Miela, trova nel teatro, io parlo della prosa adesso solamente, trova nel teatro qualche cosa di valido e di importante. Non riesco francamente a capire, ma questo è un problema mio, se questa voglia di stare assieme si ripercuote anche sul cinema, questo non riesco a... Cioè nel senso, sì o no? Non riesco a capire. Non riesci a capire se tornano in sala o no? Non riesco a capire. Non c'è da dire che lì ovviamente l'offerta di app per vedere il cinema a casa praticamente a stretto giro, cito un titolo che insomma non sarà cinema de sé, ma Barbie si vede già sulle piattaforme, che chiaramente non è, non sarà magari un capo lavoro, però è ancora al cinema. E poi tu puoi dire tutte le volte che vuoi solo al cinema, solo al cinema, solo al cinema, poi sulle piattaforme va e la gente lo sa. Arriva chiaramente, poi dopo chiaramente è un altro discorso perché si tratta anche del far la serata, di uscire di casa, di stare assieme ad altre persone, magari di andare prima o dopo a cena, per chi se lo può permettere, insomma fa tutto parte di quella vita sociale che un po' tutti abbiamo recuperato nell'ultimo periodo. Sì, sì, questo sì, questo assolutamente sì. E poi ripeto, ecco c'è da dire anche questo, ho dimenticato prima, probabilmente per quanto riguarda la mission, termine orrendo, che Paolo Valerio si è dato quale direttore del Teatro Stabile, era quella appunto di andare a indagare i giacimenti culturali, letterari triestini, è ovvio che la coscienza di Zeno rappresenta l'apice di questi giacimenti, quindi l'interesse di questa sera è anche per questo, insomma. Ecco, il mio sogno dal punto di vista teatrale, guardando nel nostro territorio, è vedere uno spettacolo fatto, tratto dal Gelso dei Fabiani, che è un libro che continua a vendere molto di Renato Ferrari, che racconta la storia dell'antesignano della famiglia Fabiani, poi padre di Max, che racconta la Trieste di un tempo, racconta il Carso, racconta quel tema mitele europeo della nostra città, quando ancora si parlavano tre o quattro lingue e si andava d'accordo in questa terra che poi è stata colpita dai nazionalismi, quello è il mio sogno. È strano effettivamente che nessuno ci abbia pensato, per dire la verità. Anche perché è un libro che lo trovi ancora in edicola, evidentemente vende ancora, racconta di Trieste, racconta del Carso, della componente triestina, slovena e austriaca, quindi insomma sarebbe interessante, poi si prestano con questa idea. Sì, è strano che non ci abbiano pensato. Vabbè, lo lancio io, stasera parlo con Valerio. Stasera parlo con Valerio, che poi si danca al tennis, poi l'avevo visto qua anche con Avarino. Incidenti, lui è Avarino, lui ha giocato a tennis anche con il Ciartonesto. Bene, bene, bene. Insomma, stagione quindi di Telequattro che vedrà il grande impegno di Umberto Bosazzi anche sul teatro. Non so se possiamo dire quando va in onda poi l'appuntamento con Rossetti, dipende dallo spettacolo? Diciamo, non sarà un appuntamento che va in onda tutte le settimane, ma come si dice, poco via, a seconda di, e va al giovedì sera, quindi prima del telegiornale. Bene, giovedì sera prima del telegiornale, quindi significa alle 19, 19.05, appuntamento col teatro, non ci sarà sempre, ma molto spesso sulla base degli spettacoli in cartellone. Speriamo anche di avere tanti protagonisti in studio, che insomma, che anche gli attori capiscano che bisogna promuoversi, soprattutto nella città dei teatri. Perché da questo punto di vista bisogna anche dire da un po' di tempo a questa parte, sono un po', gli attori sono un po' fastidiosi, per dire. Ma quindi insomma, bisogna... Sì, se gli rendessero conto, insomma, non sarebbe male. No, anche perché insomma poi aiuta, lo vedi in tv, sai dell'appuntamento, magari anche l'effetto simpatia, molte volte aiuta. Sì, perché poi anche, è ben vero che intervistare, soprattutto un attore dal vivo, è completamente diverso che intervistarlo, come noi delle volte facciamo via Skype, eccetera. C'è una distanza che non riesci a... Chiunque penso non solo un attore, c'è quell'empatia... Sì, assolutamente sì. Allora, tra poco c'è il telegiornale con Umberto in conduzione, quindi restate con noi, restate su Telequattro. Telespettatori di Telequattro, buongiorno. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stata una violenta lite domestica sfociata in un accoltellamento. Una donna ha colpito con un fendente al torace il compagno, ora ricoverato in ospedale per una lesione al polmone. È accaduto in un'abitazione di Piazzale De Gasperi. Violenta lite domestica la notte scorsa intorno alle 3 in un'abitazione che si affaccia su Piazzale De Gasperi. Un 34enne di Trieste è stato accoltellato dalla compagna di origini straniere. Colpito al torace dal fendente, l'uomo è uscito di casa barcollante fino a raggiungere il Piazzale, dove è stato soccorso dall'ambulanza. Poi la corsa all'ospedale di Cattinare, in codice giallo, per una lesione al polmone. L'uomo non è in pericolo di vita. Anche la compagna è stata soccorsa, ma sembra non aver subito gravi ferite. Si tratta dell'ennesimo litigio della coppia, sfociato nel peggiore dei modi con la tragedia sfiorata per poco. Secondo quanto ha preso finora, i due sarebbero stati ubriachi. Complice anche l'effetto dell'alcol, il litigio è rapidamente degenerato fino al ferimento del 34enne. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell'episodio sul quale indagano i carabinieri di Viermet che mantengono il massimo riservo. Nei confronti della coppia non è stato ancora emesso alcun provvedimento. Hanno rubato due scooter in pieno centro per poi fuggire nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo un inseguimento, i due giovani sono stati bloccati dalla polizia locale. Sfrecciavano a bordo di due motorini rubati. All'alto degli agenti della polizia locale, due non si sono fermati e hanno proseguito con la loro corsa fino a imboccare la superstrada. Gli uomini della locale però sono riusciti a intercettarli. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa. Due giovani hanno rubato gli scooter in pieno centro. Durante la loro fuga all'altezza di via Giulio Cesare, i due si sono imbattuti nel reparto motorizzato della polizia locale. È scattato l'alt per un normale controllo, ma i centauri hanno ignorato i vigili e hanno proseguito oltre. Dunque l'inseguimento, mentre un'ulteriore pattuglia si univa agli agenti della polizia locale. I due giovani conducenti nel frattempo hanno imboccato la superstrada, ma gli operatori della polizia sono riusciti a farli uscire allo svincolo di Valmaure e a tagliargli la strada. I due fuggitivi hanno abbandonato i motorini per proseguire la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dagli agenti. Durante il controllo gli operatori hanno notato che dalla tasca della felpa di uno dei giovani spuntava un cacciavite. Alla loro richiesta il ragazzo ha consegnato l'oggetto agli agenti, assieme a uno strumento per estrarre il blocchetto di accensione dei veicoli. Poi gli accertamenti sugli scooter dopo i quali è emerso come i mezzi fossero stati rubati. Condotti alla caserma di San Sebastiano i due giovani sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. I motorini sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Bisogna erogare incentivi mirati per il personale del pronto soccorso in modo che non abbandonino la professione a favore del privato. Così Furio Oms, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, stamani nel corso di Sveglia Trieste. Il rappresentante dell'opposizione di centro-sinistra ha anche duramente attaccato l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi. Sono passati più di 5 anni da quando la Serracchiani ha perso, ha perso anche per quello e purtroppo quello che ha fatto Riccardi è stato di confermare tutte le scelte che aveva fatto la Serracchiani, anzi alcune di peggiorarle. Aveva fatto delle grandissime manifestazioni a Gemona, altrove per tutti gli ospedali piccoli che erano stati chiusi, sostenendo che dovessero essere riaperti, quando è diventato assessore alla sanità e poteva riaprirli, Cividale, Gemona, li ha lasciati così, anzi ha ridotto ulteriormente le funzioni e i servizi. Quindi ha seguito, è stato una Serracchiani se ne concede una metafora matematica, una Serracchiani al quadrato, al cubo Riccardi. La metafora matematica del consigliere regionale di Open Sinistra FWG Furio Onsel è specchio di un messaggio chiaro. Questa giunta non ha migliorato il sistema organizzativo della sanità regionale, anzi forse, dice Onsel, l'ha peggiorato e ieri in consiglio regionale una delle emozioni proposte dal Partito Democratico chiedeva di apportare incentivi al sistema di emergenza urgenza per contenere l'emergenza dettata dal fatto che manchi personale specifico in certi delicati settori. Ma perché non si sfrutta la possibilità di dare retribuzioni, dare incentivi maggiori per quelle che sono poi anche i settori più critici? Che poi se andiamo a vedere i settori critici cosa sono? Pronto soccorso? Perché oggettivamente è molto molto difficile e chiaramente anestesia e reanimazione che sono di nuovo le questioni delle emergenze perché nessuno va nel privato nel caso di emergenza, è chiaro che lì ci deve essere il pubblico, il privato va bene per quelle che si chiamano tutti gli interventi di elezione, dove è indispensabile il pubblico? È nell'urgenza, nell'emergenza ed è lì che effettivamente uno potrebbe, la regione, visto che ha anche tanti soldi, non dimentichiamo che a luglio l'assestamento di bilancio della regione Friuli Inizia Giulia è stato di più di un miliardo. Occupiamoci adesso della variazione di bilancio che l'assessore comunale Bertoli porterà in Consiglio Comunale nelle prossime settimane, sono circa 7 milioni di Euro previsti appunto dalla variazione fondi che saranno impegnati per lavori di edilizia scolastica e sportiva, manutenzione di strade, spese per il sociale e per il rilancio del commercio. A Proderà breve in Consiglio Comunale una variazione di bilancio di poco più di 7 milioni di Euro volta a dare risposta a tutta una serie di circostanze gestite dal municipio. L'importo è diviso in una quota corrente e un incontro capitale. Nella prima trovano spazio misure specifiche riguardo il sociale, coperture di spesa delle utenze comunali, interventi per il commercio cittadino. Una variazione di bilancio tra l'altro l'ultima che proponiamo quest'anno ed è stata resa possibile grazie al fatto che il bilancio è stato approvato il 31 dicembre l'anno scorso di quasi poco più di 7 milioni di Euro, 2 milioni e mezzo di interventi nella parte corrente e 4 milioni e 700 mila Euro di interventi in conto capitale. Manovra resa necessaria per rimettere un nuovo denaro nel circuito cittadino, nel tessuto economico cittadino per far fronte a delle richieste anche urgenti, ne faccio alcuni esempi sulla parte corrente, 200 mila Euro per sostenere il sociale, 400 mila Euro per i sostegni dei consumi del Comune di Trieste per quanto riguarda l'acqua, ma anche 350 mila Euro per i distretti commerciali, un progetto cofinanziato dal Comune di Trieste e dalla regione Friuli-Venezia-Giulia per il rilancio del commercio a Trieste. Manutenzioni edili scolastiche e sportive, interventi ad Oxo, alcuni assi stradali e quant'altro rispetto alle variazioni in conto capitale. 400 mila Euro per la manutenzione delle scuole, 400 mila Euro per la manutenzione degli impianti sportivi, 400 mila Euro per la manutenzione e il rifacimento nuovo di alcune strade cittadine, per arrivare poi anche a interventi un po' più piccoli come gli interventi della scuola Biagio-Marini, 80 mila Euro per il rifacimento dei bagni e degli spogliatoi. Ecco, questa è un'ottica in sostanza di rispondere tempestivamente alle esigenze dei nostri concittadini. Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni riparte oggi, è ripartito e andrà avanti fino al 22 dicembre. L'operazione è stata illustrata in una conferenza stampa nello stand del comune alla Barcolana. Aiutaci a raccogliere i dati per conoscere il paese. Saranno circa 8 mila le famiglie interessate al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diventato annuale dal 2018. Saranno in parte contattate direttamente dai rilevatori incaricati, in parte raggiunte da una comunicazione dell'Istat per compilare in autonomia online il questionario. L'operazione riparte oggi a Trieste. In una conferenza stampa il comune ha annunciato che il periodo di rilevazioni per il 2023 andrà avanti fino al 22 dicembre. A illustrare i dettagli l'assessore comunale agli affari generali Sandra Savino, che ha invitato i cittadini a partecipare. Una volta che c'è questa fotografia e si analizza la situazione sociale, economica del territorio, poi si possono portare dei correttivi e si possono modificare eventualmente delle linee di intervento, soprattutto di carattere politico, a beneficio dei cittadini. Quindi è un piccolo compito che i cittadini devono fare, è un compito obbligatorio tra l'altro, però credo che le persone che hanno a cuore le proprie sorti non avranno difficoltà a compilarlo e spedirlo correttamente. Il comune di Trieste attiva anche il centro di rilevazione del censimento in via Ottaviano Augusto 12, oltre allo sportello inclusivo in via della procureria 2 barra A. Tutte le informazioni sul censimento si possono trovare sul sito web dell'Istat. Ci fermiamo per la pubblicità, vi diamo notizia di un incidente che si è verificato in viare d'annunzio all'altezza del Civico 28. Un ciclista è stato investito, vedremo se eventualmente dopo la pubblicità riusciremo a contattare la polizia locale per vedere se vi sono novità. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Rientriamo in studio, durerà fino alla fine dell'anno l'iniziativa del governo per calmirare i prezzi della spesa con un'attenzione particolare ai beni di prima necessità, molti a Trieste e ai supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Ci sono gli articoli col tricolore mi sembra, sì è vero, non so, mi sembra una buona idea. Un paniere di beni di prima necessità, non solo alimentari ma anche per la cura della persona e della casa, a prezzi bloccati o calmirati. E l'iniziativa anti-inflazione del governo nazionale, partita ieri, è prevista fino a fine anno. A Trieste è lunghissimo l'elenco dei supermercati e dei negozi, comprese anche molte farmacie che aderiscono alla campagna del bollino contro il caro spesa. Sicuramente le cose che servono ogni giorno ed è una buona cosa che siano messe a prezzi calmirati perché ovviamente è un buon aiuto per le famiglie. Quali sono i beni che secondo lei sono aumentati di più? Ma diciamo il caffè, la pasta anche comunque se si vuole prendere una pasta insomma di marca. Per quanto riguarda la spesa ha notato un aumento dei prezzi in questo periodo? Sì, sicuramente sì, speriamo che vada fino a lei che si fermi insomma. E da ieri fino al 31 dicembre ci sono alcuni prezzi calmirati? Sì. Cosa pensa di questo? Speriamo. È necessario perché i prezzi sono aumentati in maniera vertiginosa già da un anno e la spesa diventa insostenibile per tutte le famiglie, anche per me. Lei fa questo di mestiere, cioè fa la spesa per altri su ordinazione? Sì, io faccio la spesa per altre persone, la consegno a domicilio per conto di un'azienda. Pasta, latte, tonno e salsa di pomodoro tra i beni sui quali sono stati applicati gli sconti maggiori che si aggirano sul 20% del prezzo originale. Alcuni esercizi hanno scelto di far rientrare nel paniere degli sconti governativi anche i prodotti più richiesti dalla clientela durante le offerte periodiche. Non l'ho vista, devo dire la verità, non sono ancora... no. La ritiene una buona iniziativa? Sì, ebbè senz'altro. Approfiterà allora nei prossimi giorni? Sì, ma oggi non abbiamo tanto tempo. Sì, se c'è qualcosa perché no? Approfittiamo. Quali sono gli aumenti che ha notato di più in questo periodo di generi alimentari o di altro tipo? Io penso olio, pasta, ma tutte le cose necessarie tutti i giorni ci sono stati abbastanza aumenti, ma non il 20-30, anche addirittura 80-90%. Il punto adesso sulla preparazione della stagione di Lega 2, sullo stile di gioco della pallacanestro a Trieste. Siamo entrati nella pagina sportiva. Ieri lo abbiamo fatto al Caffè dello Sport con il coach Jamion Christian. In molti si chiedono lo stile di gioco che vuole il coach Christian. It's wrong to say run and gun. Insomma, si può paragonare alla run and gun di Mike D'Antoni? Mike D'Antoni ha una carriera così fantastica in giocando a tempo, e poi è ovviamente potuto prenderlo in l'NBA. Apprezzo molto lo stile di Mike D'Antoni, la sua run and gun, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. Abbiamo 10 giocatori, 10 come ho detto più volte, potrebbero essere 10 capitani, che sanno giocare forte, in velocità, con scelte rapide, ma quello che più voglio è avere subito un impatto difensivo importante, quello su cui stiamo crescendo e abbiamo cercato di mostrare nelle prime partite. Hai pensato di giocare a zona? Perché i tifosi me lo chiedono. Io faccio qualsiasi cosa ci aiuti a vincere, quindi la zona è una possibilità, il pressing è una possibilità, quindi sicuramente la tengo presente. Hai giocato con Trapani, hai giocato con Udine, ti trovi a giocare con Orzi Nuovi, con Nardò, magari non riesci a mantenere la concentrazione. Se tu ogni giorno puoi guardarti allo spec, puoi dire di aver fatto il massimo che potevi dare, in questo caso in campo, allora sei a posto. Se sei competitivo, vuoi testarti ogni volta contro qualsiasi avversario e dimostrare le tue qualità ogni volta di atleta in questo caso. Quindi è una sfida non solo contro l'avversario, ma contro te stesso, i tuoi limiti. Ci sono dieci capitani, abbiamo 10 capitani in questo team. Chi farà il final shot, se necessario? Filloi, abbiamo... Noi abbiamo veramente tanti giocatori importanti, quello che può prendere l'ultimo tiro può essere Filloi, che ha una grande storia proprio nei cosiddetti clutch shot, i tiri dell'ultimo momento, ma abbiamo un giocatore fisico come Reyes, che ha dimostrato anche lui di poter essere decisivo, quello che ha fatto al college Eli Bruce, quindi ho un bel, tra virgolette, problema da gestire, ma comunque il bello è avere tutte queste possibilità, diciamo, nel mio carniere. Nell'ottica di un progetto che possa portare la Triestina a creare sinergie non solo con il territorio giuliano, ma abbracciando anche l'Isontino e più in generale l'intero Friuli Venezia Giulia, nei giorni scorsi è stato sancito un importante accordo di affiliazione tra la società La Bardata e l'Italas San Marco. La definizione di questa partnership ha avuto luogo a Rocco alla presenza di Bojan Kuriakovic e Stefano Lotti in rappresentanza del settore giovanile della Triestina, del presidente dell'Italas San Marco Stefano Forte e del direttore tecnico del sodalizio Isontino Eros Luxic. Un primo importante passo ufficiale è l'inizio di un rapporto che comprenderà non solo l'aspetto tecnico a livello di giovani calciatori, ma anche la possibilità di dialogare nel contesto delle strutture sportive. Barcolana adesso, dopo aver rimesso a punto il Maxi Arca, reduce da un naufragio, Furio Benussi e il suo team per un'altra Barcolana protagonista in cui si rinnoverà la tradizione di famiglia nel mondo della vela. Che Arca ha quantomeno tre vite, no? Perché è rinata due volte. Prima avevi detto ho trovato un vaso di fiori sul carso a tuo papà, nel senso che era una barca ormai dismessa e l'hai riportata non solo alla vita ma alla vittoria. Poi avete addirittura rischiato di affondare vicino a Ponza, se non sbaglio. E ancora una volta, diciamo così, siete pronti? Diciamo che questa non l'abbiamo cercata. C'è stata una collisione con un oggetto sommerso, non si capisce se è una balena piuttosto che una retta abusiva e quindi stavamo viaggiando, 17 nodi, comunque per una barca è una velocità importante, una barca di quelle che navigano, non di quelle che volano. Quindi diciamo che quando è successo, sì, questa barca è come i gatti, ha sette vite. Quest'anno, ripeto, c'è woman in sailing, quindi mia figlia a 16 anni probabilmente in una condizione buona sarà la timoniera. Ah, quindi mogli il timone alle rede? Sì, non in partenza perché la partenza è veramente complicata. Certo. Quello è complicato, allora bisogna saperla fare e non far danni soprattutto. Certo, allora se fai questo significa che l'hai già testata in situazioni del genere. Sì, sì, abbiamo fatto una riga. Che emozione è stata però vederla per la prima volta al timone su una barca di un certo tipo? Beh, guarda lei è venuta a fare, credo, la barcolana, due o tre barcolana, fatele a vinte. Quindi, perché insomma la barcolana ti permette questo e vederla timonare un centopiedi a 16 anni l'ho invidiata. Perché io a 16 anni me lo sognavo, una cosa del genere. No, è una bella soddisfazione, da padre è una bella soddisfazione. Certo, insomma, poi un'eredità che va avanti, no? Da papà a voi. Sì, di fatti speravo, vediamo le condizioni meteo, che non sarebbe male che venisse anche mio padre, che ormai ha 82, va per 83 anni, è stato lui l'artefice di tutto questo, della nostra vita, sia di mia che di mio fratello, per cui mi piacerebbe riuscire a portare lui e mia figlia e poi vedere un attimo. Inizia domani, Barcolana, un mare di racconti, quinta edizione della rassegna letteraria che è collegata appunto alla Coppa d'Autunno. Barcolana, un mare di racconti, compie cinque anni. Il festival letterario legato alla regata d'autunno, a cura di Alessandro Mezzena Lona, proporrà come di consueto un viaggio di carta tra terra e mare lungo quattro giorni, dal 4 al 7 ottobre. Questa è la quinta edizione, inizia mercoledì, proprio il 4 ottobre, andrà avanti per quattro giornate fino a sabato 7, ogni giorno dalle 16.30 alle 20, il magazzino delle idee in Corso Cavour numero 2, quindi vicino al Teatro Miela, propone ogni giorno quattro incontri con quattro scrittori diversi ovviamente, che vengono un po' da tutta Europa. Iniziamo mercoledì e iniziamo subito con delle storie di mare, perché abbiamo un dialogo tra due velisti, possiamo dire, oltre che due professionisti, che poi fanno anche mestieri diversi, che ci racconteranno uno, il favoloso viaggio di questa barca ormai storica, che si chiama Iancris, ed è Alfredo Giaccon, invece Ida Castiglioni è stata protagonista di una traversata drammatica, ma anche gloriosa, dell'oceano. Questo è proprio il primo incontro di mercoledì, poi quella giornata ha anche l'incontro con Caterina Bonvicini, che ha scritto questo libro andando sulle navi ONG nel Mediterraneo, quindi un racconto drammatico, ma anche molto umano. Arriva una scrittrice americana, che però vive da tanti anni in Italia, che è Tessa Rosenfeld, e penso che basti che io dica il titolo del libro, Che anime slave, per dirci quanto questa storia ci è vicina. E poi la star della giornata di mercoledì sarà Frank Westerman, lo scrittore olandese, che ha fatto del viaggio e della curiosità, diciamo, per i luoghi che lui visita, un nuovo salto nella letteratura. Dico ancora che le altre tre giornate avranno tantissimi ospiti, che vi invito appunto a scoprire e a venire a vedere con noi dal vivo, anche consultando il programma che potrete trovare online, su tutti i social. Allora, andiamo verso la chiusura di questa edizione del telegiornale, abbiamo ancora un po' di tempo, guardiamo un pochettino quello che propone la pagina online del Corriere della Sera. Intanto è stato reso noto il nome dei vincitori del premio Nobel per la fisica. Sono tre, Agostini, Krauss e Luiglie, per, si legge proprio nel titolo, gli impulsi di luce più brevi mai creati, e sugli studi, sugli elettroni. Venerebbe a vedere anche se questo, se il nome Agostini è un italiano, oppure se in realtà come temo sia magari un italiano che però lavora all'estero. vediamo se riusciamo ad entrare nel Pier Agostini. Pier Agostini, chiedo scusa, lavora di fatti alla Ohio State University degli Stati Uniti, quindi probabilmente è di origine italiana. Ferenc Krauss, lavora a Monaco in Germania, e Anne Luiglie, il cognome sembra francese, però opera all'Università di Lund in Svezia. Andiamo ancora al Corriere, alle pagine interne, chiedo scusa alla pagina online, terremoto a Napoli, nuova scossa dopo quella di Magnitudo 4, c'è chi ha passato la notte in strada, scuole chiuse a Pozzuoli, per cui insomma lo sciame sismico che è iniziato qualche giorno fa non accenna a diminuire. tagli alla sanità, dice la Meloni, non basta avere più risorse se non vengono spese bene. A Torino c'è stato un corteo contro la Primo Ministro, c'è un allarme sicurezza su Milano, Milano come Gotham City, titola, la pagina online del Corriere, numeri, realtà e percezione dei reati commessi in città. rimane ancora alta la tensione con la giudice che non ha applicato il decreto del governo sulle espulsioni, i motivi appunto per non essere espulsi. Ci sono anche contatti fra la Meloni e Scholz per l'altro motivo di scontro, che è quello sul finanziamento da parte della Germania alle navi o MG. Abbiamo tempo adesso per il meteo, domani un debole fronte atlantico passerà sulle Alpi, determinando instabilità atmosferita. In seguito la rimonta dell'antisclone sull'Europa occidentale favorirà sul fluido Venezia-Giulia l'afflusso di correnti settentrionali più secche e stabili. Per domani dunque si prevede cero variabile su pianura e costa, in prevalenza nuvoloso sulla zona montana. Probabili piogge sparse, in genere deboli o moderate, specie nelle ore centrali della giornata e sulle zone interne, dove saranno possibili rovesci un po' più consistenti e forse anche qualche locale temporale. In serata tempo migliore su tutte le zone, sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata anche sostenuta dal pomeriggio. Vediamo adesso questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento con Trieste in diretta alle 18, alle 19.30 il telegiornale e poi dalle 20 alle 20.30 circa all'esterno del Politeama Rossetti per il red carpet dello spettacolo La coscienza di Zeno che inaugura la stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Fluido Venezia-Giulia. A più tardi, buon proseguimento.